Solo chi è tifoso può capire davvero cosa vuol dire essere superstiziosi. È qualcosa di intimo, di imprescindibile. È quello che ogni tifoso può e deve fare per portare la squadra alla vittoria. Per Giordano è fondamentale iniziare la giornata di ogni partita con il piede giusto. Il sinistro, sempre quello. Quello con cui Bruno Conti ha segnato nel derby del 27 marzo del 77. Giordano mette sempre lo smoking. Lo aveva casualmente indosso durante un derby vinto perché dopo sarebbe andato alla festa di una sua cugina che faceva 18 anni. Da allora, quando va allo stadio indossa quei vestiti sempre. Sempre e comunque. Ma Pinguino, portami ai campani. Ma Pavarotti, faccia un'acuto. Importantissimo poi è il rituale da eseguire perfettamente che comprende il tragitto in motorino. Il bar dove fermarsi. Cosa ordinare. Un caffè, tazza diapida, macchiato caldo, leggermente schiomato, due bustine di zucchero, di canna. Grazie. A Giordano, è rotto il casso. Come salutare. O segui, felicitazioni. A te e sorida. Man mano che ci si avvicina la meta, diventa tutto più difficile. E infatti il percorso di avvicinamento allo stadio deve essere compiuto con maniacale precisione. Fino all'ultima, decisiva scalinata. Quello sbaglio gli costa un anno di inferno.